A seguito di una platea interamente rinnovata al Teatro Alighieri, le precedenti poltrone dovranno trovare nuove collocazioni sul territorio. Un Teatro Alighieri rinnovato nelle poltrone e le precedenti dove sono finite? Le precedenti non possono essere assolutamente rottamate perché sono un poltrone di pregio e poi sono un pezzo di storia di questa città. Io intendo proporle nei prossimi giorni a interlocutori che possano essere interessati a riutilizzarle, ad esempio penso alle scuole del nostro territorio o ad altre strutture teatrali che possano utilizzarle al meglio. Ripeto, è una scelta fatta non tanto per ragioni economiche quanto per ragioni di valore anche simbolico perché sono un pezzo della storia di questo teatro. Io sono certa che ci saranno persone interessate alle poltrone della Alighieri, a portarsi a casa un po' di storia della Alighieri, in altri luoghi aperti al pubblico. Le scuole potrebbero essere interessate per l'aula magna ad esempio o per altre sale dedicate ad attività di gruppo. Adesso vedremo, noi faremo la proposta.